No, sono troppo vicino L'arrivo nei blindati, non scinde una cosa non chiusa Noi non siamo contro il carbone Siamo contro tutta quella gente che ce la vuole mettere nel sedere perché si vuole forzare il nostro ambiente e il nostro territorio che la vuole mangiare Guarda questi papagetti guarda Sti quattro cessi in merda Guarda 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 non c'è il barbello Vabbè non c'è il barbello Attraverso gli articoli di stampa Questi hanno messo i pazzi con il sì alla centrale E poi hanno pubblicato che dopo qualche giorno Quei disculpati mentalmente hanno visto le magliette su un albero e li hanno indossati Però loro gli danno continuamente sigarette, caramelle E bisogna verificare fino a che punto la serie e i suoi accoliti agiscono legalmente verso le squadre che preparano per il sì a carbone oppure no Sono stati già scontri Sono stati già scontri Sono stati già scontri No Dai le mani No no che dice sempre no Che sta nella parte sbagliata ma dice no sempre a tutto Cominciare a generalizzare tutto La parola è semplicissima, spiegaci perché sei contro questo impianto di Salina Ionica. In maniera semplicistica? Semplicissima. Semplicissima. Che lo capiscono tutti, perché talmente è un'imbecillità, così li aiutiamo a riflettere. Che non è l'investimento per le nostre terre, che le nostre terre ci aspettano ben altro. Lo sviluppo delle nostre terre è fatto di altre cose. Abbiamo infrastrutture, abbiamo turismo, abbiamo la vera occupazione per i nostri figli, che non è la centrale a carbone, che la centrale a carbone è la morte dei nostri figli, non il futuro. No, ci siamo in giro, ma poi ci siamo in giro per l'autorizzazione dove per lui. Dai! Questo è un bambino di 6 anni, mio nipote, che non abita qua in Calabria, abita a Milano. Siccome sentiva me e mia moglie, che parlavamo della centrale, di sua spontanea volontà ha voluto portare questa sua testimonianza. Mi ha detto, zio, dammi un foglio, che voglio scrivere una cosa, perché io l'inquinamento non lo voglio in questa terra. È un bambino di 6 anni. Di prima elementare. Di prima elementare. Ma è Giovanni il bimbo? Si chiama Giovanni. Se fanno sta funzionale, non fai più ammeggiarti i pesci da sola. Dove. Oh! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.